E... non potresti fare la cameriera per mantenerti? Non me lo permetterebbe. E poi... io non devo fare granché. Lui mi mantiene. E io ogni tanto devo scoparmi qualcuno. Senza preservativo perché non lo vuole. Non me lo farà neanche vedere. E adesso avrà tre mesi. Ma di cosa parli? Se lo vende. Oddio! Che profumino, eh? Perché non ci metto l'uovo al sodo. Quello puzza. Non mi è mai piaciuto. Non bisogna credere all'occhio. Ma a certe volte verrebbe la voglia di... Tu sono le mie figlie, lo sai? Io non ce l'ho una figlia, ma... Perché non lo denunci? È una balla. Scusa? Ti ho raccontato un sacco di cazzate. Morivi dalla voglia di odorare un po' di merda, no? Ecco, ti ho contentata. Ora battele. Detesto le vecchie potecole. Sperisci! E togliesi con i zoccoli del cazzo se vai a comprare un altro anno.